Non appena Lennon proposa agli altri questa canzone, ne prese subito le distanze, e lausi, schifosa, ci credeva poco. Non è una canzone facile da suonare e cantare, la chitarra ritmica non esiste, è interamente costruita su un giro di chitarra, o riff. Harrison praticamente doppia la chitarra di Lennon, McCartney, come al solito, infila una linea di basso interessantissima, e Ringo Starr utilizza un ritmo che non si può assolutamente definire rock, è una scorribanda ritmica nei tempi sudamericani. Non è facile per Lennon cantare questo brano. Nelle prime versioni registrate su un astro, dei Beatles non si è buttato via niente, fortunatamente, aggiungo, anzi, nella primissima versione, I Feel Fine è in una tonalità più acuta, troppo per la voce di Lennon, che nel frattempo deve faticare non poco per trovare la quadra tra la ritmica della voce e quella del riff, confermo. Suonare quel riff e cantarci sopra è tutt'altro che immediato. Forse per questo Lennon prende le distanze dalla canzone. Eppure, alla take numero 9, ne entra una versione che ritroveremo sul disco. Il 9, d'altronde, è sempre stato il numero fortunato di John. I Feel Fine arriva in vetta alla classifica americana, e diventerà uno dei brani che compongono il repertorio delle canzoni più conosciute dai Beatles. Lennon, in fondo, opera una frode, un plagio, se vogliamo. Questo è il secondo motivo per cui Lennon sembra non essere affezionato a questo suo brano. Da sempre aveva pensato che una delle migliori canzoni rock fosse un brano di Bobby Parker, un chitarrista blues rock americano, che aveva suonato con tutti i miti dei Beatles, Bo Diddley, Everly Brothers, Chuck Berry, Buddy Holly, Little Richard. Nel 1961 pubblicò una sua canzone che divenne un successo. Il riff iniziale di questo brano, Watch Your Step, è pressoché identico all'incipit di I Feel Fine. Eppure i Beatles hanno questa capacità e la manterranno sempre. Riuscire a cogliere frammenti, momenti, pezzetti, e trasformare tutto questo in un'epoca, nelle loro mani e tramite i loro strumenti e con le loro voci. I Feel Fine ha qualcosa, un piccolo particolare, che nessun'altra canzone dell'epoca ha. Lennon sfidò il mondo a trovare un'altra canzone che convincesse con un feedback di chitarra prima di questa. Probabilmente ha ragione, e forse questo è il motivo per cui lo stesso Lennon rivalutò questa canzone a posteriori. Il brano, prima ancora del riff iniziale, comincia con la chitarra che emette un suono causato dall'eccessivo avvicinamento della chitarra stessa all'amplificatore. Quel sibilo fastidioso che qualsiasi tecnico del suono si affretterebbe a togliere, almeno prima dei Beatles. I Beatles sono stati i primi ad aver utilizzato questo suono fastidioso e renderlo musica, renderlo cioè parte integrante di una canzone. Oggi, a sentire l'inizio di I Feel Fine, non ci rendiamo nemmeno conto di quanto quei pochissimi attimi siano rivoluzionari. Tutte le versioni di I Feel Fine si aprono con questo feedback, non è stato qualcosa di non voluto, ma al contrario un effetto assolutamente cercato. La canzone viene incisa nel 1964, il 18 ottobre per la precisione, in una giornata che, come al solito, è caratterizzata da molte altre incisioni. I quattro hanno rifinito A Day's Week, hanno inciso per intero Kansas City, A, A, A e Mr. Moonlight. Perché riposare quando si possono ancora affrontare minimo dieci take di un nuovo brano come I Feel Fine? Dal 1964 al 1967 passano tre anni e il feedback è diventata una pratica consueta. Il maestro, nell'uso di questa particolare forma, dell'uso e della distorsione, è Jimi Hendrix. Nel maggio del 67 esce in Inghilterra Are You Experienced, il suo primo disco. Non arriva in cima alle classifiche inglesi, solo perché un altro disco oscura la vetta, ed è Sgt. Pepper, guarda caso, dei Beatles. Il primo brano del disco di Hendrix si apre con un feedback, proprio come si apriva tre anni prima A Day's Week. Per questo, Lennon ebbe a dire, in uno slancio dell'ironica modestia che lo caratterizzava, Hendrix lo abbiamo inventato noi. Hendrix e i Beatles Spero che i fan di Hendrix non se la siano presa male per la frase di Lennon su di lui, perché la realtà è molto diversa. Pochi sanno che quando Hendrix si trasferisce a Londra, trova il suo appartamento affittandolo da Ringo Starr. E il 34 di Montagu Square, sopra lo speaker corner di Hyde Park e sotto il museo di Madame Tussaud, a circa un chilometro dagli studi di Hubby Road. Quando uscirà Sgt. Pepper, capiterà a Hendrix di suonare al Saville Theatre di Londra. In prima fila ci sono i Beatles a guardarlo. Lui sorprende tutti e soprattutto loro stessi, intonando una sua meravigliosa versione proprio di Sgt. Pepper, la canzone che apre l'album dei Beatles omonimo. Più avanti, Lennon, Yoko Ono e lo stesso Hendrix condivisero quello appartamento per tre mesi. Due universi che ci sembrano distanti finiscono per essere invece molto più vicini di quanto possano apparire a chi incasella nella storia del rock i musicisti in base ad una collocazione per generi. Esiste anche una storia che è quasi una leggenda. Nel 1969, proprio quando i tre convivevano e Brian Jones, lasciato da solo dai Rolling Stones, stava consumando i suoi ultimi mesi di vita, esisterebbe una canzone che i tre registrarono insieme, Go to the Mountains. C'è chi dice che il nastro esista e sia in mano ad un ricco collezionista americano. Forse è vero, credo che quest'uomo abbia in mano una fortuna incommensurabile. Spero che sia vero e che prima o poi qualcuno glielo rubi, come Prometeo, e la restituisca al mondo intero. Brian Jones e Jimi Hendrix muoiono entrambi a 27 anni, a distanza di poco più di un anno l'uno dall'altro. Jones era un polistrumentista e ha caratterizzato la prima fase di Rolling Stones apportando dei marchi indelebili, come ad esempio la marimba, che sentiamo disegnare un altro riff, celebre come quello di I Feel Fine, Under My Thumb. Se dovessimo inserire in un filone tematico il testo di I Feel Fine, finirebbe sicuramente nel pacchetto delle canzoni d'amore. L'abbiamo sempre recepita in questo modo, perlomeno in Italia. La bassa scolarizzazione della gioventù degli anni 60, la parola love ripetuta in quantità massicce nelle canzoni dei Beatles, la spinta di una certa stampa perbenista, fecero passare il fenomeno Beatles come una sorta di ipnosi collettiva che aveva toccato i giovani, ma che tutto sommato continuavano a trattare di buoni sentimenti. Gli artisti italiani, che sembrano aver incarnato lo spirito beat, in fondo, raccontano delle stesse cose. Il 1964 in Italia è il momento di Gianni Morandi, in ginocchio da te, e il singolo più venduto dell'anno. Anche Bobby Solo non scherza, con una lacrima sul viso. Viene quindi naturale pensare che anche i Beatles abbiano scritto canzoni d'amore. I Beatles hanno invece incontrato la letteratura francese esistenzialista grazie agli amici di Hamburgo, Klaus Wormann e Astrid Kircher. Sartre è tra queste letture. Lo stesso Sartre, che proprio nel 1964, rifiuta il premio Nobel per la letteratura. La visione del rapporto amoroso dei Beatles è tutta qui, e traspare anche nei loro testi apparentemente più sdolcinati. Prendiamo proprio I Feel Fine. La rima che ricorre è quella di You Know, tu lo sai. Rima con se stesso, un po' come nel geniale Azzurro di Paolo Conte, in cui te e te rimano insieme nel ritornello e non pensiamo che sia frutto di un'ingenuità. Ma chi è questo tu di You Know? La bimba è brava con me, lo sai? È felice quanto lo può essere, lo sai? Già in queste due righe si percepisce che la canzone non è una canzone d'amore canonica. Il Lo Sai è una vera e propria strizzata d'occhio all'ascoltatore, quasi come dire fin qui tutto bene. Io sono innamorato di lei e mi sento bene, tranquillizzante, autocentrato, esistenzialistico appunto. Con questo schema si costruisce la seconda strofa. È felice di dire a tutto il mondo che il suo bimbo le compra le cose, lo sai? Le compra annelli di diamanti, lo sai? Lei è innamorata di me e io mi sento bene. Se ci pensate, è un testo orribile da un punto di vista dei sentimenti. Lei non ha anima. Il rapporto d'amore viene visto come se la telecamera fosse fissa e in soggettiva, solo su uno dei due, e tutto è in funzione dello stare tranquilli, nel creare un equilibrio in cui le cose vadano bene utilizzando amore e denaro come mezzi e non come fine. Ma questa è anche profonda ironia che potremmo definire canzonatoria, essendo all'interno di una canzone. Altro che In ginocchio da te, bellissima canzone, ma quella sì, canonica da un punto di vista del testo. In I Feel Fine viene ripreso anche il topos narrativo dei due innamorati che devono fare sapere a tutto il mondo di esserlo. Lo abbiamo già visto nella puntata dedicata ad I've just seen a face. Qui è la lei non ben definita che ci tiene a fare sapere al mondo che lui le compra delle cose. Gli stessi Diamond Ring, gli anelli di diamanti, divenuti celeberrimi in Can't Buy Me Love. Gli anelli di diamanti come simbolo del potere attrattivo di un uomo su una donna. Ma si capisce chiaramente che il brano dei Beatles non celebra questo fatto e quei ripetuti you know stanno proprio a renderci complici di una storia che è di per sé surreale e ironicamente messa in scena. Sono passati 56 anni e la nuova generazione della trap celebra invece questi temi con parole molto più forti. Il costume ha abbassato le difese. Qui però non c'è più ironia. I diamanti sono diventati ghiaccio. Ice. Ice è una delle parole più frequenti nelle canzoni trap. Chi risplende di più, chi ha più Ice addosso dimostra al mondo di non essere innamorato ma di essere diventato famoso al di sopra del bene e del male. In Italia abbiamo Sfera e Basta che proprio con il disco famoso e già prima con Rockstar aveva perso il contatto con i comuni mortali a suon di Money e Ice. Ora Sfera ci dipinge un mondo che non era esattamente come l'aveva previsto un mondo in cui i valori che si sono sostituiti a quelli precedenti fatti di Hollywood collane Ice Money non hanno riempito il vuoto generazionale che si è rappresentato. Forse Sfera non ha letto bene intensamente né Sartre nemmeno il testo di Lennon di I Feel Fine. E l'ospite di oggi di Beatles è Jacopo Tomatis docente di Popular Music a Torino a Milano a Pescara ha scritto un meraviglioso libro storia culturale della canzone italiana potrebbe già esserci fuori il libro su Lucio Dalla di Jacopo Tomatis che suona anche nella stanza di Greta quello che volevo chiederti rispetto alla parabola dei Beatles ai racconti sui Beatles è proprio per il ruolo che ricopri se hai qualche perla da consegnarci sulla ricezione dei Beatles in Italia beh sì allora la ricezione dei Beatles in Italia è qualcosa che esplode ovviamente in leggero ritardo la ricezione diciamo divistica dei Beatles esplode in leggero ritardo come quasi sempre le novità che toccano al nostro paese però quando esplode esplode molto rapidamente in sostanza nel giro di Pipoco di un annetto rivoluziona il modo di intendere sia le estetiche della musica sia proprio il fare musica girava proprio pochi giorni fa sui social una vecchia recensione del Radio Corriere del gennaio del 64 in cui si diceva ma questi Beatles lasciano perplessi sembra che rifacciano un po' Peppino Di Capri e i suoi rockers perché quel tipo di musica già può fare in Inghilterra perché i Beatles nel 63 hanno già un enorme successo in Inghilterra in Italia ancora non arriva ancora all'inizio del 64 non c'è l'idea che i Beatles siano nuovi ci sono già i limitatori sostanzialmente ma non ci sono ancora i Beatles tra 64 e 65 invece tutti cominciano a fare i Beatles nascono i primi gruppi beat soprattutto dal 65 c'è da dire e in pratica una scena musicale che fino a quel momento è stata dominata dai solisti i gruppi sono sempre stati in Italia l'accompagnamento ma non il primo piano diventa invece anche monopolizzata dai gruppi i primi sono quelli più noti Equipo 84 rocks giganti e poi Dick Dick Camaleonti eccetera e questo soprattutto riguarda i giovani nel senso perché i giovani si mettono a fare musica insieme in modo nuovo è una rivoluzione che tocca a diversi livelli anche quello per esempio industriale sulle strategie dell'industria per esempio in Italia ci sono molti livelli per cui i Beatles come dire impattano sulla produzione italiana c'è qualcosa che estrapolando dalle pagine del tuo libro ha anche a che vedere proprio con l'industria come dicevi te la questione dei diritti d'autore sostanzialmente ma sì certo uno dei meccanismi per cui in Italia è sempre stato almeno fino agli anni 60 particolarmente conveniente fare cover di gruppi inglesi o americani è che come ha studiato molto a lungo Franco Faber che è quello che per primo ha identificato questo meccanismo sostanzialmente si ottenevano dei diritti anche sulle traduzioni dei testi questa è la ragione per cui esistono tantissime traduzioni dei testi dei Beatles per esempio e della ragione per cui gli autori si sono messi in tasca delle royalties in piena legalità e sottolineo anche solo depositando le traduzioni di brani che hanno avuto grande successo se Gigi Giancursi tu avessi depositato a tuo nome una traduzione di Yesterday che si chiamava Ieri anche senza inciderla avresti ricevuto delle royalties ogni volta che la canzone Yesterday dei Beatles veniva per esempio trasmessa in radio si vendeva un disco quindi parliamo veramente di milioni questo ha portato a sfruttare molto come dire mungere la vacca che è stato possibile facendo moltissime cover ma più in generale è che nel sistema editoriale italiano di quegli anni l'idea è che un gruppo possa fare tutto cioè scriversi le canzoni eseguirle in studio e portarle in tour è molto più economico rispetto al modello non so al modello Claudio Villa in cui bisogna avere un autore di professione un compositore un orchestratore un direttore d'orchestra degli strumentisti il cantante che registra in studio una band da affiancarli per portare in giro ecco il modello Beatles fa tutto questo con quattro persone e basta quindi è molto di successo anche per quello perché costa meno sostanzialmente fantastico quindi prima cosa possiamo tranquillizzare gli ascoltatori perché questa legge in Italia non esiste più per cui è inutile che vi mettiate ora a fare una cover dei Beatles no esatto ci abbiamo provato ma non funziona e io chiuderei e ti ringrazierei questa intervista con te magari chiedendoti se ci vuoi suggerire una canzone che secondo te italiana ha avuto molto a che fare con i Beatles non necessariamente una cover ma qualche cosa che ha pescato nell'universo di riferimento dei Beatles così come è stato recepito in Italia e ci è stata rifagocitata all'interno del nostro perimetro nazionale allora io suggerisco una cover dei Beatles che è la mia preferita per ragioni di mio gusto per il trash che è la cover di Obladi Oblada la suggerisco perché è fatta dai ribelli del gruppo di Demetrio Stratos non ai tempi di questa cover e di altri musicisti importanti ma perché racconta benissimo di come in Italia si traducano le canzoni anche culturalmente andatevelo a ascoltare finisce diversa dalla Obladi Oblada originale sostanzialmente nella versione italiana Desmond e Molly si sposano hanno un bambino e lei smette di lavorare perché deve stare a casa con il bambino questa è la versione italiana rispetto invece alla versione progressista di Lennon e Meccarni che inverte i ruoli di genere eccetera eccetera poi trovare una canzone che si sia costruita su quel mondo è difficile io penso che Battisti sia da rileggere molto in rapporto all'affascinazione dei Beatles soprattutto nei primi anni settanta di Battisti si dice molto spesso dei legami con la Black Music ed è vero perché lo ha fatto poi fino alla fine della sua carriera sostanzialmente di andare a pescare nelle suggestioni della musica nera ma c'è molto moltissimo anche dei Beatles nei modi di costruire le canzoni le armonie gli incastri strumentali sarebbe da rileggere come Beatlesiano doc forse grazie davvero Jacopo sicurati grazie a voi un abbraccio ciao molti hanno reinterpretato I Feel Fine tra gli altri José Felistiano il brano che però vorrei farvi ascoltare oggi è la riproduzione di I Feel Fine girata specularmente al femminile uscita nel 1967 a opera di una grande amica dei Beatles Alma Kogan qualcuno vociferò che intercorse anche una relazione tenuta nascosta tra lei e Lennon Alma Kogan divenuta famosissima e pagatissima in quello scorcio degli anni 60 era definita la girl with the giggle in her voice la ragazza con la risatina nella voce una voce indubbiamente gradevolissima si guadagnò questo appellativo quando interpretò il brano If I Have a Golden Umbrella durante il quale il suono della sua voce si ruppe in maniera elegantissima quasi da fare sembrare alla sua interpretazione una sorta di risatina Alma Kogan riprenderà I Feel Fine e riuscirà a rendere in pieno l'ironia di quelle parole cambiando i pronomi maschili in femminili e viceversa e spostando quella telecamera di cui avevamo parlato in precedenza su di lei nel ruolo della femme fatale incontentabile e capricciosa ben lieta di ricevere diamanti da un idiota che non finisce di comprarglieli lo you know si ribalta completamente per questo la cover è interessantissima e ci racconta molto della canzone originale Alma Kogan morirà giovanissima all'età di 32 anni per una brutta malattia che se la portò via saluti alla prossima puntata di Beatles un grande racconto sui Beatles un abbraccio dal vostro Gigi Giancursi un abbraccio un abbraccio un abbraccio un abbraccio